Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per incidente sul bivio 1-11 Firenze-Pisa Nord, nelle tue provenienze in direzione di Pisa. Qualche problema in A11 dove troviamo per incidente 4 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme, coda tra Firenze Ovest e Prato Ovest, ancora una volta per incidente, coda a tratti per traffico tra Monte Catini Terme e il bivio 11 raccordo a 12, il tutto in direzione mare. E arriviamo in Fipili, per lavori sale a 4 km la coda tra La Strassigna e Monte Lupo nella carreggiata in direzione Livorno, possibili disagi anche in carreggiata opposta. Traffico inoltre, rallentamenti tra Santa Croce e il bivio Fipili di Ramazione Pisa, ancora una volta in direzione mare. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.